Musica Torna a riunirsi il Consiglio regionale dopo il voto del 25 settembre si attende il riassetto politico Ma Emiliano fa sapere che non ci saranno rimpasti Si parla anche del condizionamento delle comunali di San Giorgio Ionico 2016 Nell'ordinanza che ha portato 15 persone in carcere per droga Indagati anche un maresciallo dei carabinieri e due agenti penitenziari Liste d'attesa troppo lunghe, prestazioni non erogate Cittadini sempre più arrabbiati dalla CGL l'iniziativa Liste d'attesa non se ne può più Ben ritrovati con l'informazione di Antena Sud Partiamo dalla politica, niente rimpasto in Giunta in Puglia per ora Michele Emiliano vede il Movimento 5 Stelle dopo le politiche Maratona di faccia a faccia in regione con pentastellati democratici e civici Si allontana il terzo mandato del governatore Sentiamo Alla fine il primo consiglio regionale pugliese dopo le politiche e la pausa estiva Si chiude senza sciogliere i due nodi principali in agenda Riforma della governance di ARPA, la legge sul fine vita Non presente nel programma elettorale del centro-sinistra Ma che per il presidente della commissione bilancio Fabiano Amati Seguirebbe il volere della Corte Costituzionale Nel primo caso la massima assise sceglie il rinvio La cui richiesta viene formalizzata dal capogruppo di con Giuseppe Tuputi Niente spallata a Massimo Cassano dunque DG dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro Ma anche esponente del terzo polo E fuori dalla maggioranza L'ipotesi più accreditata ora è che si lavori alla governance di tutte le agenzie Non solo di quella in questione Tornando a farle gestire da un consiglio di amministrazione Mentre dall'opposizione chiedono che sia l'intera struttura ad essere eliminata Riportandone le funzioni in capo all'assessorato al lavoro Fatto sta che per ora tocca attendere sullo sfondo i vertici interni Alla maggioranza è un rimpasto che si allontana almeno per ora Insomma un po' tutti si chiedono se questo consenso di conte Legato al Movimento 5 Stelle Avrà poi anche una maggiore responsabilità all'interno dell'esecutivo regionale Ma questo lo lasciamo a un secondo passaggio Nel momento in cui ci rendiamo conto di quelli che sono i temi e gli obiettivi Se siamo in grado appunto di stare ancora insieme Perché noi in questi due anni abbiamo dato prova di coerenza Di lealtà anche nei confronti di una maggioranza che comunque ci ha accolto Però se non ci vogliono abbiamo anche detto che non c'è un problema Perché noi abbiamo capito che i pugliesi vogliono questa forza politica Nello scenario nazionale e regionale E la politica nazionale ha lavoro sul problema dei rincari Per il prezzo dell'energia e anche per l'organizzazione della nuova squadra di governo Tecnico o politico? Il nuovo dilemma che agita la maggioranza di centrodestra È tutto incentrato sulla composizione del prossimo governo La leader di Fratelli d'Italia, Premier Inpectore Meloni Non si esprime sulla squadra che porterà con sé a Palazzo Chigi Ci sono troppe scadenze importanti, aveva detto L'idea è avere una squadra pronta per il Consiglio Europeo del 20-21 ottobre Buongiorno, che bello a vedervi ragazzi Il nodo tecnici e ministeri chiave dell'esecutivo a forte firma di Fratelli d'Italia Non è però l'unico scoglio da superare Rimane quello di Salvini al Viminale Forza Italia ha detto già, credo sia il presidente Berlusconi che Antonio Tajani Noi non abbiamo nessuna, non mettiamo nessun veto a nessuno assolutamente Quindi quello che deciderà è il Premier incaricato Con i partiti da noi andrà benissimo Noi non abbiamo nessuna prevenzione nei confronti di nessuno Tanto meno nei confronti di Matteo Sabini Il nuovo Consiglio federale della Lega blindato e gruppi della Camera È proprio sui nomi da proporre per i ministeri Avanti contro caro bollette, flat tax, quota 41 Bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas È quello su cui donne e uomini della Lega lavorano giorno e notte Pronti a un governo di centrodestra Finalmente scelto dagli italiani un governo politico Che lavorerà per cinque anni senza veghe e senza litigi Nel marasma generale è dunque il tema dell'energia a preoccupare partiti Più che oggi occuparci del Toto Ministri Dobbiamo occuparci del decreto aiutiter E di come dare certezze alle famiglie e alle imprese Che non sarà interrotta l'erogazione della luce del gas E che l'Italia in ogni caso dovrà aiutare le imprese a non fallire Se non c'è tempo per cercare risorse nelle pieghe del bilancio Come vuole fare il centrodestra Questo è il momento di investire in genti risorse Per aiutare famiglie e imprese Se noi ricordiamo che abbiamo un governo scente e un governo in pettore Facciano quello che è necessario fare Ma si sbrighino perché i cittadini non possono attendere i teatrini della politica E la spartizione di poltrone a cui stiamo assistendo in questi giorni Edizione 74 del Prix Italia al centro La sostenibilità Appuntamento a Bari fino all'8 ottobre Per passare in rassegna il meglio delle produzioni tv, radio e web Si apre sulle note dell'estasi dell'oro e del maestro Morricone L'edizione 74 del Prix Italia Al centro c'è la sostenibilità Ne parla la presidente RAE Sul palco del teatro Petruzzelli Marinella Soldi Evoca persino un ministero Roberto Cingolani Il ministro uscente alla transizione ecologica In collegamento 5 giorni Fino all'8 ottobre prossimo Per passare in rassegna il meglio delle produzioni tv, radio e web dal capoluogo Io credo che in futuro assisteremo anche un cambiamento macroeconomico Nel senso che la bollinatura finanziaria Che verrà fatta su ogni progetto di un paese e di una grande azienda Dovrà essere accompagnata anche da una bollinatura di sostenibilità 300 programmi in concorso E la voce del presidente Graham Ellis di BBC Audio A raccontare la macchina del broadcast del Regno Unito Sui funerali di Elisabetta II Per noi della BBC È stata anche una sfida editoriale e tecnica formidabile Funire una copertura per i dieci giorni Dalla morte della regina fino al suo funerale Che è stato seguito da così tanti milioni di persone In tutto il mondo È stato un giorno che non volevamo arrivare Ma che sapevamo un giorno dovesse arrivare L'obiettivo è essere sempre più digitali, incisivi E dentro la comunità che ci ospitano Un evento culturale che va nella direzione che la regione ha sempre preso Investire in cultura, in relazioni, in sostenibilità ambientale E valoriale Perché per avere sviluppo sostenibile ci vuole anche giustizia ed eguaglianza Voti e droga a San Giorgio Ionico 15 persone arrestate e indagato Anche un maresciallo dei carabinieri Un controllo monopolistico del mercato Degli stupefacenti È quello emerso dal blizzo odierno dei carabinieri Che ha portato 15 tarantini in carcere L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata Traffico e spaccio di droga Ma anche detenzione e porto illegale di armi e munizioni La base operativa a San Giorgio Ionico Ma l'operatività anche nei comuni limitrofi Si tratta del gruppo lucchese Alla base una 48enne Che curava la direzione organizzativa Ma anche i rapporti con i fornitori Emerse anche relazioni con istituzioni Che avrebbero in vario modo favorito i sodali L'indagine è stata sviluppata Dall'aggruppamento operativo speciale dei carabinieri E diretta dalla procura distrettuale di Lecce I militari si sono abbalsi Anche di un collaboratore di giustizia Già legato alla cosca di Indrangheta Flachi Trovato Schettini Operante in Lombardia Proseguono serrate le indagini Sull'omicidio di Gerardo Tammaro Avvenuto nella mattinata di lunedì A Ortanova nel Foggiano Intanto il sindaco del piccolo comune Dauno Ha chiesto l'immediato intervento Della squadra Stato Chiedendo un incontro al prefetto di Foggia Maurizio Valiante Sentite L'efferato ed ennesimo omicidio compiuto Nelle scorse ore ad Ortanova In cui è rimasto ucciso Gerardo Tammaro Padre di Mirko Il killer a rio confesso Dell'omicidio del giovane Andrea Gaeta Avvenuto lo scorso 3 settembre Ha spinto il sindaco del comune Dei cinque reali siti Domenico Lasorsa A chiedere l'immediato intervento Della squadra Stato Il primo cittadino ha firmato La richiesta di convocazione Di un tavolo per la sicurezza pubblica Con il prefetto di Foggia Maurizio Valiante Siamo profondamente preoccupati Per l'escalation violenta Che si sta consumando nel nostro paese In queste ultime settimane Ha affermato Condanniamo fermamente Ogni spargimento di sangue Forme di violenza Purtroppo non si può più sottovalutare Questa situazione Abbiamo fortemente bisogno Della presenza dello Stato In questo momento Ora più che mai Ha concluso Domenico Lasorsa Intanto proseguono serrate Le indagini degli investigatori Che nelle scorse ore Hanno ascoltato familiari E amici della vittima Hanno acquisito i filmati Della videosorveglianza E seguito accertamenti tecnici Tra cui perquisizione e stub La vittima dell'agguato Ricordiamo aveva svolto Un ruolo fondamentale Nel corso delle indagini Lampo Sull'omicidio di Andrea Gaeta Quando durante una conversazione Telefonica con il figlio A poche ore dal delitto Del ventenne Lo aveva convinto A costituirsi I militari sono attualmente Alla ricerca dell'arma del delitto Intanto il PM titolare Delle indagini Disporrà in giornata L'autopsia Sul corpo della vittima Indagati I matarrese Crack di tre società E un buco Da oltre 20 milioni di euro Sono tre le società Della famiglia matarrese Per le quali La procura di Bari Ha in corso Indagini Per bancarotta Fraudolenta Distrazione E dissipazione La Icon SRL La Holding Fimba S.P.A. E la Beton Impianti S.R.L. La montare del cracch Ampiamente superiore Ai 20 milioni di euro 8 Gli indagati 23 Le perquisizioni eseguite Compreso Il commercialista Leccese Marco Mandurino Di 54 anni Sequestrati documenti Contabili Ed extra contabili Secondo la guardia di finanza Gli 8 Imprenditori Finiti nel mirino Avrebbero provocato il dissesto Della società Icon S.R.L. Fallita il 20 aprile 2022 Con operazioni dolose Consistite nel reiterato E sistematico In adempimento Delle obbligazioni Tributarie Previdenziali Per circa 1,8 milioni di euro E avrebbero svuotato La società Dei beni immobili E immobili Posseduti Perché la famiglia Matarese La riteneva Un pericoloso S.R.B.A. Debiti Infatti La Icon Fu affibbiata Al prezzo Di un euro Alla Sodelva S.R.L. Verosimilmente Costituita In previsione Del crack Un copione Simile Secondo l'accusa E' stato eseguito Per il depauperamento Del patrimonio Della Fimba S.P.A. In procedura Concorsuale Con due operazioni Finanziarie La prima Del 4 febbraio 2022 Riguarda La Salvatore Matarese S.P.A. La seconda Avviene dopo Solo i 18 giorni Il 22 febbraio Dall'esame Degli Atti Emergono altri dettagli Ad esempio Che la Fimba Avrebbe basato Il proprio risanamento Su un accordo Di ristrutturazione Dei debiti Che comporta Un danno rilevante Alle società Del gruppo La betonimpianti Ed ecoambiente Già in evidente Stato di insolvenza E la famiglia Matarese Respinge le accuse Ribadendo L'assoluta Legittimità E liceità Dei comportamenti Tenuti Dalle società Indagate E interessate Andiamo adesso A Potenza Dove è stato presentato Un progetto Per prevenire Le truffe Agli anziani Si è riunito A Potenza Il Comitato Provinciale Per l'Ordine E la Sicurezza Pubblica Convocato dal Prefetto Del Capoluogo Lucano Michele Campanaro Per presentare Ad istituzioni Locali E forze Dell'Ordine Un progetto Che ha come obiettivo La prevenzione Delle truffe Agli anziani Un problema Che seppur Non evidenzia Un numero Elevato Di casi Ha visto Raddoppiare Negli ultimi anni Il numero Di reati Compiuti Spesso Da malfattori Provenienti Da fuori Regione Abbiamo sviluppato Portato avanti Con un finanziamento Specifico Del Ministero Degli Interni Un progetto Qui sul Capoluogo Che partirà Nelle prossime Settimane E che ha Proprio Questa funzione Quella di affiancare Questa fascia Di popolazione Più fragile Che Peraltro Subisce Come sappiamo Nel caso In cui Venga colpita Un doppio danno Non solo Quello economico Ma anche Quello psicologico Sono più frequenti Indubbiamente I casi Di truffe A domicilio Però Ecco L'altro dato Sul quale Occorre essere Sempre Molto Cauti Attenti Quindi In questo senso L'invito Alla sensibilizzazione All'attenzione Massima E appunto Quello legato Alle truffe Informatiche Forse Marginalmente Sono compiute Gli over 65 Perché magari Hanno un approccio Meno frequente Anche se Adesso Anche quella fascia Di età Fa un uso Frequente Appunto Di sistemi Informatici Direi che Da questo Punto di vista La Realtà Virtuale O meglio Il sistema Virtuale È molto più Dinamico Del sistema Reale È sempre A potenza Un uomo Di 73 anni A causa Di un malore È morto Mentre Stava camminando Per strada Inutile L'intervento Dei sanitari Del 118 Giunti Sul posto A struncarlo Probabilmente Un infarto Anche se Manca Ancora La conferma Del medico Legale Sul posto Carabinieri Polizia Locale Il traffico È stato Interdetto Per alcune ore A Brindisi 29 persone Sono state Rinviate A giudizio Per una Presunta Truffa Compiuta Nel commercio Del gasolio Agricolo Sottrazione Di migliaia Di litri Di gasolio Al pagamento Delle accise E frode In forniture Pubbliche Con queste accuse 29 persone Sono state Rinviate a giudizio Dal gruppo di Brindisi Vilmagilli Accogliendo Le richieste Del PM Francesco Carluccio Il processo Ruota intorno Alla Energy Petroli Di Giancarlo Pennetta E vede Tra gli imputati Il fratello Ronso Imprenditore Anchegli Ex delegato Provinciale Del CONI L'accusa Sulla base Di un'inchiesta Condotta Dalla Guardia Di Finanza Ipotizza L'esistenza Di un'associazione Per delinquere Frangelo Negro Francesco Gargiulo E Giancarlo Pennetta Per omettere Il pagamento Delle accise Vendendo alla pompa Per autoveicoli Il gasolio verde Destinato all'agricoltura E quello rosso Per il riscaldamento Angelo Negro Risponde Come acquirente Rivenditore di gasolio Nelle vesti Di titolare Della Salento Petroli La parte Dell'inchiesta Riguardante La contestazione Di frode Nelle forniture Pubbliche Vede imputati Tra gli altri Oronso Pennetta Nelle vesti Di amministratore Di fatto Dell'Adriatica Petroli E il maresciallo Di Marina Pietro Ruggero Si ipotizza In questo caso Che una fornitura Di gasolio Per la scuola Sotto ufficiali Della Marina Di Taranto Sarebbe stata Di circa la metà Rispetto a quella Dichiarata Nella consegna Con l'autocisterna Il processo Inizierà Il 22 marzo Dell'anno prossimo Davanti alla giudice Della sezione penale unica Anna Guidone Disse d'attesa Troppo lunghe Prestazioni Non erogate Cittadini Sempre più Arrabbiati Dalla CGL L'iniziativa Per dire basta Voi avete prenotato Una visita Ortopedica Me l'hanno data Per gennaio Con una spalla rotta Deve comunque aspettare Fino a gennaio Del 2023 Nonostante Abbia un'urgenza Certo Anche scritta Sulla ricetta Però devo aspettare L'Italia è fatta Di attese Liste d'attesa Lunghissime Prestazioni urgenti Che andrebbero erogate Entro le 72 ore Ma che spesso Vanno ben al di là Dei tempi previsti Dalla legge Visite che non vengono Fissate E si deve perciò Tornare al cupo O continuare a chiamare Per avere una data Una situazione Che sta aggravando Sempre di più Sui cittadini Arrabbiati Delusi E spesso rassegnati È da prima del covid Che aspetta Un'ecografia? Sì Intanto io tengo Quasi 90 anni Tengo E non so Se posso aspettare Ancora Chissà Era venuto quando Per questa risonanza Che doveva fare? Sono venuto I giorni 5-6 giorni fa Devo tornare oggi Ma intanto ho detto Voi ti chiamiamo noi Ma ancora Non c'è possibilità Aprile Sono andato Per almeno due mesi Sempre all'ospedale Per prenotare Non c'era Ancora accesso All'ematologo Non esiste Finalmente L'altro giorno Si è liberato un posto Se vai a pronto soccorso Non ti accettano Se vai a fare visite Signora L'anno prossimo Signora a dicembre Cioè non si può più Si deve fare qualcosa Signore Dovevo prenotare Con urgenza Dentro i dieci giorni E mi hanno detto Che non c'era nessuna visita Disponibile Non lo so Se si dobbiamo Rassegnare O meno Su queste cose Ecco Noi chiediamo Che l'Asla Se non è in condizioni Di dare La visita In una struttura pubblica Deve assumersi L'onere Di darla Presso una struttura privata Pagando direttamente L'enno Una situazione Insostenibile Come quella Di Simona Una mamma Che lotta Per la sopravvivenza Di suo figlio Tra lunghe code Interminabili Telefonate Al CUP Della Asla Taranto Come al solito Mi sono sentita dire Per ogni ricetta Dopo ogni codice dettato Non c'è posto L'ennesima telefonata In questi nove lunghi anni L'ennesimo no Ricevuto dal CUP Della Asla Di Taranto Questa mamma E' costretta Ad attaccarsi al telefono Ogni settimana Per ore Per richiedere Delle visite Di routine E fondamentali Per la sopravvivenza Di suo figlio Una malattia Molti malformativa Una mutazione Rarissima Mutazione Genesox 4 Che coinvolge Tutti gli organi Lo scheletro E il cervello A Taranto Suo figlio Non si può curare Non sono riuscita Ad andare avanti E per curare Il suo figlio E' costretta Ad andare a Bologna O a Matera Quindi fuori Taranto E fuori regione Perché? Allora io sono costretta Ad andare a Matera Per tutta la parte neuro E per l'epilessia Per il resto Faccio tutto a Bologna Perché so Che una volta arrivata lì In molti specialistica Malattie rare Io in un dei ospital Faccio tutto Senza dover prenotare E proprio qui In vista il problema L'odissea delle prenotazioni Per questo La mamma Ha incontrato Il direttore generale Della ASL Con la CICO Si era detto disponibile Ma non l'ha più contattata Ci dice Ecco la sua proposta Così come esiste Uno 048 Un nuovo codice Inventare un nuovo codice Per i molti specialistici Per chi deve Fare più controlli In vari reparti Su Antena Sud Abbiamo trasmesso La sua richiesta Accorata Al presidente della Puglia Emiliano Lei Le ha chiesto di intervenire Lui le ha proposto Di telefonare Perché non lo ha fatto Il fatto che lui Possa Sopperire a queste mancanze Adesso Non mi risolve nulla Perché io Fra due mesi Sarò di nuovo Nella stessa situazione Il problema è a monte Va risolto a monte Andrea ha fatto Nove anni a maggio All'inizio È stata più dura Perché I primi anni Non riusciva a raggiungere Le tappe evolutive Non parlava Non camminava Cosa dà La forza di andare avanti? Eh mio figlio Per forza Amaruggio La caromana Della prevenzione È partito L'ottobre Rosa Il mese dedicato Alla prevenzione Delle patologie tumorali femminili E per il secondo anno consecutivo Ha fatto tappa Amaruggio La carovana Della prevenzione Una importante iniziativa Itinerante Di promozione Della salute L'amministrazione comunale Ha offerto La possibilità Alle donne residenti Amaruggio Di sottoporsi Gratuitamente Ad esami diagnostici Mi ha fatto Una bella cosa Ottobre Il mese Della prevenzione Ne approfitta Per questo Sì anche Ma pure per tenere Sotto controllo Noi stessi Una cosa veramente Che serve Molta gente Non può andare fuori C'è questa comodità Che arriva qua E allora È una cosa Veramente Il comune Ha fatto una cosa Buona Abbiamo voluto Omaggiare Le donne Di Maruggio Per la seconda volta Di visite preventive Ginecologiche Senologiche Mammografiche Oggi Circa 50 Delle nostre Concittadine Potranno Sottoporsi A esami Di screening Preventivo Quindi Per verificare Il loro stato Di salute La giornata Dedicata Allo screening Gratuito È stata anche L'occasione Per inaugurare Una panchina rosa Simbolo Della importanza Della prevenzione E della diagnosi Precoce Dei tumori Femminili Una panchina rosa Al fine di ricordare A tutti E in particolare Alle nostre Meravigliose donne Che prevenire È fondamentale A Barletta Michele Cianci Potrebbe essere Sollevato Dall'incarico Di amministratore Unico Di Barsa Del futuro Dell'avvocato Agli arresti Domiciliari Da diverse settimane Si discuterà Durante l'assemblea Della società Di servizi Ambientali Della città Michele Cianci Non sarà più L'amministratore Unico Di Barsa S.P.A. Il sindaco Di Barletta Cosimo Cannito Ha annunciato Che si procederà Con la revoca Dell'incarico Ancora assegnato All'avvocato A capo Della società Di servizi Ambientali Cittadina Cianci È ancora Sottoposto Agli arresti Domiciliari A seguito Di un'indagine Congiunta Della procura Di Brescia E della guardia Di finanza Di Roma Tre ragazzi Di cui uno Di Barletta Furono arrestati Per la vendita Lecite sul dark web L'attuale amministratore Unico di Barsa Nominato Loro avvocato Difensore Sarebbe andato Oltre il suo mandato Il GIP Angela Corvi Ha poi disposto La misura restrittiva Nei confronti Di Cianci Senza però La limitazione Di comunicazioni Con l'esterno Ed incontri Con altri individui Il legale Ha ribadito La sua presunzione Di non colpevolezza Il tribunale Dell'esame Di Brescia Ha inoltre Rigettato Il ricorso Dei suoi difensori Claudio E Giuseppe Cioce Prorogando La misura restrittiva E attendendo Che decora Il termine Dei 45 giorni Per presentare Le motivazioni Del ricorso Che verrà presentato Anche in Cassazione Il 6 ottobre Invece È prevista L'assemblea Di Barsa S.P.A. Nella quale Si discuterà Del futuro Dell'amministratore Unico A capo Dell'azienda Attesa Sia per l'esito Della vicenda Discussa Anche nel consiglio Comunale Di Barletta Del 3 ottobre Sia per la presenza Stessa di Cianci Durante l'assemblea Che dovrà essere Autorizzata Dal GIP Unire domanda E offerta di lavoro È questo L'obiettivo Del progetto Goal Per la regione Basilicata Unire domanda E offerta di lavoro È questo In sintesi L'obiettivo Del progetto Goal Illustrato A potenza Dall'assessore Alle attività Produttive Della regione Basilicata Alessandro Galella E dal direttore Generale Del dipartimento Canio Sabia Due Gli avvisi Che sono stati Già pubblicati Attraverso Un finanziamento PNRR Di quasi 50 milioni Di euro In quattro anni Destinato A denti di formazione Centri per l'impiego Che analizzeranno Le principali richesse Delle aziende lucane E formeranno ad hoc I profili maggiormente Richiesti Sono già oltre 3 mila Quelli selezionati Tra percettori Di sussidi pubblici E persone Che presentano Particolari situazioni Di svantaggio O fragilità Il progetto Goal È uno dei progetti Più importanti Affidati alle regioni E alla regione Basilicata Per cercare Di superare Questo problema Di tanti disoccupati O tanti Che usufruiscono Del reddito Di cittadinanza Ma nello stesso tempo Imprese Che cercano Figura professionali Che non trovano Questo progetto Serve proprio Per cercare di mettere In sintonia Questi due fattori Attraverso un percorso Di formazione Affidato agli enti Di formazione E di messa in contatto Dei lavoratori Attraverso gli enti preposti Siamo felicissimi Di essere Di aver recuperato Quel gap Che ci si reparava Dalle regioni Più in avanti Su questo progetto Siamo all'ottimo punto Addirittura I nostri centri Per l'impiego Hanno fatto un ottimo lavoro Raggiungendo già la quota Dei 3.300 Schede Compilate Presso i centri Per l'impiego Ci fermiamo Per qualche istante Torniamo tra poco Proseguiamo Con l'informazione Di Antenna Sud Ripartiamo Da Bari Parliamo di agricoltura Come valorizzarla E tutelarla Se ne è parlato Durante un congresso Copagri Tutelare l'agricoltura Tutelare l'agricoltura Difendere il territorio Questa la mission Del congresso Copagri Il cui scopo È quello Non solo Di dar vita Alla nuova dirigenza Che guiderà All'organizzazione Nei prossimi anni E tante altre Proprio per i costi Di produzione Che sono aumentati Sono insostenibili Per l'azienda Stanno per chiudere Noi dobbiamo evitare questo Perché abbiamo bisogno Di produrre Anche le istituzioni Puntono a fare la propria parte In primis La regione Puglia Il momento è particolare Per tutti A partire dalle famiglie Non solo per l'inflazione Ma per l'impatto Sul costo Della vita quotidiana Quindi Meno consumi Probabilmente Rispetto all'aumento Delle materie prime E al dramma Del costo energetico Però con le agricole Con il sistema D'impresa Stiamo lavorando A una pianificazione Verso un'agricoltura Di precisione spinta L'utilizzo Appieno delle Risorse comunitarie Nazionali Ed anche quelle regionali Abbiamo un buon Trend di utilizzo Stiamo mettendo in campo Tutte le dinamiche Rispetto ad agricoltura Di precisione A nuove cultivar E sistemi di impianto Per dare l'opportunità Tra primizie tardive Di avere una forbice Più larga Nei prodotti Per fare prezzo E quindi avere Una redditività In corso invece A Taranto Un importante forum Sull'economia Circolare Abbiamo chiesto a Eni Come sta operando Sulla raffineria ionica Taranto abbandona I vecchi retaggi Di città Coperta dai fumi Dell'inquinamento E diventa protagonista Dell'economia circolare Con il forum Refink Che torna nella sede Dell'università In via Duomo Tanti ospiti Di rilievo a confronto Sul tema Invitati da Tondo Promotore Tra cui anche Eni Che a Taranto Ha una raffineria Che negli anni Ha creato non poche polemiche Su Taranto Che cosa si sta facendo? Su Taranto Come in molti Dei territori In cui noi siamo presenti Il nostro obiettivo È quello di valorizzare Al meglio Le risorse dei territori I rifiuti Che rappresentano Il nostro nuovo petrolio L'economia circolare Rappresenta sicuramente Uno degli strumenti principali Per garantire I target Di decarbonizzazione Che ci vedranno Come Eni Impegnati A traguardare Il net zero Entro il 2050 Il comune di Taranto È stato premiato Al Remetec Di Ferrara Che è una fiera internazionale Per le bonifiche E per la rigenerazione urbana Dove ho ritirato Per nome e per conto Dell'amministrazione Melucci Proprio il premio Come città Simbolo della transizione ecologica C'è tanto da fare Però abbiamo finalmente Intrapreso questa strada L'obiettivo finale Quello dell'amministrazione comunale È quello di arrivare A fare a Taranto La prima fiera Dell'economia circolare Una nuova motobarca Alimentata A pannelli solari Sarà utilizzata Nel porto di Brindisi Dove è in atto Un cambio Nella gestione Del servizio La vecchia Lenta E rumorosa Motobarca Che faceva la spolla Tra il centro e il casale È un ricordo Che ormai solo Gli ultracinquantenni Custodiscono Nella memoria Ma molto presto Anche il veloce Moderno traghetto Che si muove rapidamente Con due fermate Alla banchina del centro Una alla stazione marittima E una alla storica Banchina Montenegro E due al casale Una sotto la scalinata centrale E l'altra al villaggio pescatori Andrà in pensione E in cantiere Una nuova motobarca Alimentata con pannelli solari Con propulsione ibrida Elettrica e diesel I pannelli fotovoltaici Garantiranno L'alimentazione del mezzo Per buona parte Della giornata Si tratta Del primo esperimento In Italia Di un traghetto Di linea Con pannelli solari L'imbarcazione In fase di ultimazione Grazie a un finanziamento Interreg Non si tratta Dell'unica rivoluzione Dopo 21 anni La società Doriano Che effettuava Per conto della STP Il servizio Con mezzi e personale Cederà l'intero pacchetto Alla società Trasporti pubblici Una transizione Che verrà effettuata Nei prossimi mesi E che non si annuncia Semplice La STP Dovrebbe assorbire I 12 dipendenti Della Doriano Addetti al servizio traghetto Un passaggio complesso In quanto si tratta Di una società A capitale pubblico Francavilla Fontana Le dimissioni Dell'assessore Dietro ci sarebbero State le scelte Amministrative Sentiamo i dettagli Galeotta Fu via Roma Quei lavori lunghi Troppo lunghi Quell'isola pedonale Annunciata Osteggiata Eppure così lontana Galeotte Furono quelle lamentele Quel dolore Urlato dai commercianti Domenico Magliola Ormai ex assessore Alle attività produttive Non ha probabilmente Condiviso tempi e modi Di alcune scelte Amministrative Forse non ha retto Quel peso Che tra amicizie Pensieri E impegno amministrativo Richiedeva più facce Lui alla fine Ha scelto di averne una sola Si spiegherebbero così Le dimissioni Protocollate a sorpresa Per una maggioranza Che non perde pezzi Libera Francavilla Continuerà a sostenere L'amministrazione E per una giunta Che a pochi mesi dal voto Potrebbe essere puntellata Si Domenico Magliola Ha rassegnato le sue dimissioni E questo mi dispiace molto Perché è una persona Per bene È una persona che In questa esperienza Così faticosa Così esaltante Ma lo ripeto Così faticosa Ha riversato Tutta la sua passione Tutta la sua competenza Questo va detto Io lo ringrazio A nome della città Per la testimonianza Di impegno civile Galeotta Fu via Roma Strada dritta Eppure piena di insidie E crocevia di destini Che si intrecciano Quelli di chi Su via Roma Ci vive E ci lavora Quella degli amministratori Che su via Roma Si giocano un pezzo Importante Di città futura Il lotto di lavori Che in questo momento È in corso Ho ragioni Di non dubitarne Dovrebbe concludersi Entro il mese di ottobre Poi c'è un terzo lotto Che però Confidiamo Che i lavori In questo caso Possano partire In contemporanea Quelli già in corso Galeotta Fu via Roma Su cui si interrogano Un po' tutti E anche l'opposizione Di centro-destra Con un protocollo ad hoc Proprio nel giorno In cui A sorpresa Domenico Magliola Salutò tutti E andò via Cambiando in un modo O in un altro Il verso di una storia Ancora tutta da scrivere Topi in una scuola A Taurisano L'edificio riapre Dopo la deratizzazione Ma il problema Continua I genitori Sono in protesta Era stata chiusa Dal 27 al 30 settembre La scuola dell'infanzia Alessandro Lopez Iroio Per un intervento Di deratizzazione Poi lunedì I bambini Sono tornati in aula Ma i problemi Non sarebbero cambiati Sembrerebbe infatti Che i topi Continuino a circolare Nei pressi dell'edificio Per questo motivo Alcune mamme Hanno protestato Davanti alla scuola Noi mamme Chiediamo semplicemente Un massiccio intervento E affinché questo venga fatto Chiediamo che i bambini Vengano spostati In strutture idonee Perché non vogliamo Che si verifichi di nuovo Il problema Cioè la chiusura Di una settimana La riapertura Come è successo ieri Si è verificato di nuovo Un caso Della presenza di un topo Poco dopo è arrivato Il sindaco di Taurisano Luigi Guidano Che ha chiarito La sua posizione E risposta alle domande Dei genitori Preannunciando Una nuova ordinanza Di chiusura del plesso Per un altro intervento Di deratizzazione Poiché i primi due Non hanno sortito All'effetto Diciamo così sperato Per il terzo intervento Ci siamo rivolti Ad una ditta specializzata Della quale io sono venuto A conoscenza Tramite amici Che lavorano alla ASL Ed è stato fatto Appunto un intervento A partire dalla giornata Di martedì scorso Sino a domenica compresa La scuola è stata riaperta lunedì Non risultavano Diciamo così Presenze di ratti Tramite i sensori Che sono stati collegati Nell'edificio O di topi Però nonostante tutto Ieri mattina Il topo è stato visto E poi è stato finalmente Diciamo così Ammazzato Con i sistemi tradizionali Adesso noi faremo Un ulteriore intervento Per cui Ci sarà una Ordinanza di chiusura Della scuola A partire da domani Mercoledì Sino a venerdì Prima edizione Del Galà dell'olio A Vitonto Ha segnati I premi Foglia d'olio 2022 Ha preso il via La prima edizione Del Galà nazionale Dell'olio Che si è tenuto A Vitonto Nello scenario Della piazza Dove si erge Una delle più belle Cattedrali romaniche Del mondo Illuminata d'oro Per l'occasione Nata da un'idea Dello chef dell'olio Emanuele Natalizio Con il patrocinio Dell'associazione Nazionale Città dell'olio L'iniziativa Mira a diventare Annuale appuntamento Di celebrazione Per assegnare Il riconoscimento Della foglia d'oro 2022 Ad alcuni Tra i più importanti E rappresentativi Produttori di olio Durante l'appuntamento Sono stati consegnati I premi A cinque Fra i migliori Frantoi d'Italia Tra cui L'azienda agricola Donato Conserva Di Modugno E l'azienda agricola Amore Coltivato Di Bitonto A consegnare Le foglie d'oro Sono stati Prestigiosi ospiti Del mondo Della cultura Del giornalismo Del teatro E della musica italiana Arrivati a Bitonto Per l'occasione L'attore Alessandro Preziosi La giornalista Margherita De Bach Il sassofonista Stefano Di Battista Il medico E ricercatore Antonio Moschetta E l'attrice Giuliana De Sio Siamo a questa La puntata zero Ma dopo un lungo lavoro Che dura da più di dieci anni Nel poter aiutare Il compartimento dell'olio Nell'aiutare Gli oli di eccellenza A crescere sempre di più E' solo un progetto Che dall'anno prossimo Avrà un grande successo A livello nazionale Brigata Pinerolo Consegnata La bandiera di guerra Al tredicesimo reggimento La cerimonia A Bari Al termine di un viaggio Iniziato lo scorso 29 settembre A Roma Con la resa degli onori Da parte del capo di stato Maggiore dell'esercito Il generale Paolo Sandri Comandante della brigata Pinerolo Ha ricevuto oggi La bandiera di guerra Del tredicesimo reggimento Assegnata al reparto Commando e supporti tattici Della Pinerolo L'esercito Nel segno della continuità E in virtù del legame ideale Che lega i soldati di oggi Agli eroi del passato Ha deciso di assegnare A 13 reparti Commando e supporti tattici Le insegne E la denominazione Di unità Soppresse nel corso Dei vari provvedimenti Di riordino Della forza armata Che hanno scritto Pagine gloriose Della storia militare italiana Lo stendardo Accompagna un reparto militare Sia in tempi di pace Che di combattimento Nella bandiera di guerra Del tredicesimo È costituita anche La storia La tradizione Della brigata Pinerolo Perciò Per tutta la brigata Una giornata di festa Non solamente Per il reparto Comando e supporti tattici Ma per tutti quanti noi Rinasce il tredicesimo E rinascendo il tredicesimo Rinascono idealmente Anche tutti quelli Che sono caduti Per servire questa bandiera È tutto Per questa edizione Adesso Linea allo sport Grazie per averci seguito Rimani connesso Scarica gratuitamente L'app di Antenna Sud Trovi tutte le news I programmi in streaming On demand E le pagine social